Oggi mi sfiderò a mangiare per 24 ore solo cibo di Halloween E iniziamo subito con la colazione Siete pronti a vedere queste meraviglie? Oh, oh, ahhh Cioè raga questo è il biscotto strega Con il topino sul cappellino Io raga, cioè come faccio a mangiarlo questo? Io non potrei mai Quindi colazione con biscottini E un fantastico cialatte Datemi una bevanda con delle spezie autunnali E io sarò felice Penso di voler sacrificare lui Buonissimi raga Belli e buoni Ed eccomi tornata per il pranzo Ma cosa avrò mai tra le mie mani? Loro, questi gnocchi di zucca a forma di fantasmino Ed ecco qui i miei gnocchi pronti Cioè ditemi che non è un'opera d'arte Buoni? Mammo non sento la zucca Dov'è la mia zucca? E facciamo merenda Non sapevo cosa scegliere tra le tortillas viola Oppure queste altre patatine al gusto ketchup sempre di Halloween Mi sono detta perché scegliere quando posso mangiarle entrambe? Quindi le assaggeremo tutte e due Prima proviamo queste qui Me le aspettavo più viola onestamente Sono stata fregata? Buone! Stanno le tortillas di cosa devono sapere Assaggiamo ora queste qui Che carine! Vi prego raga Buonissime! C'è anche quella forma di ragnetto Vi faccio vedere cosa sto utilizzando per preparare la cena Ovviamente lei! La pasta sfoglia nera! Ed ecco qui la mia cenetta pronta Ho fatto questa bara nera C'è anche la croce Con all'interno questo ripieno di formaggio e pomodoro Cotta alla perfezione E anche la quantità di ripieno Cioè è tutto perfetto signore È tutto perfetto?